In questo video vorrei farti vedere come creare un piano dentro software CloudCompare mentre stai lavorando su una nuvola di punti puoi creare uno strumento, un elemento aggiuntivo che è un piano che ti può aiutare a fare varie elaborazioni, su questo piano ad esempio puoi creare poi una nuvola di punti e ti faccio vedere come si fa dentro CloudCompare utilizzando una nuvola di punti che se hai seguito qualche altro video sicuramente hai già visto ma credo che si presti abbastanza bene per trattare l'argomento dei piani, questa è una cava e ci sono diversi piani che sono già presenti in questa nuvola di punti però CloudCompare ti mette a disposizione uno strumento per creare di per sé da zero da nuovo un piano. Allora tu sai che in CloudCompare non è semplice creare qualcosa o meglio se tu hai una nuvola di punti e vuoi creare dei punti extra con CloudCompare non lo puoi fare, non puoi creare delle cose che non sono presenti all'interno della nuvola di punti però il piano è una... utilizzando un piano CloudCompare ti mette a disposizione la possibilità di creare qualcosa che deve comunque essere in qualche modo legata alla nuvola di punti, ti faccio vedere come e da qui poi però puoi generare altre cose, altri punti che possono essere utilizzati per altre cose per altre cose, per altri riferimenti, per altri calcoli. Allora per creare i piani Edit, Plane, Create. Non serve selezionare la nuvola di punti perché non stiamo editando la nuvola di punti in questo modo ma stiamo lavorando su un nuovo elemento. In realtà poi servirà cliccare sulla nuvola di punti se voglio che il software approssimi un piano sulla base dei punti della nuvola ma creare un piano da zero hai la possibilità di farlo senza dover cliccare sulla nuvola di punti. Edit, Plane, Create. Vedi ci sono quattro opzioni, cinque opzioni, ne è selezionabile soltanto una se non hai cliccato la nuvola di punti. Create, ti si apre questo pannellino dove tu a questo punto hai gli strumenti per creare un piano. Gli strumenti quali sono? Che cosa devi dire? Ecco diciamo così, cosa devi dire al software quando vuoi creare questo piano? Partiamo dal basso e andiamo verso l'alto che forse è più intuitivo. Il centro del piano e in questo senso il software comunque ti vincola alla nuvola di punti anche se in realtà, ho detto una cosa che non è corretta, anche se in realtà tu potresti scrivere qua dentro le coordinate che vuoi e il software ti crea il piano dove vuoi. Quindi è chiaro che ci deve essere una relazione tra il piano che stai costruendo, le coordinate del centro e le coordinate della nuvola di punti. Questa nuvola di punti è una nuvola di punti già referenziata che è stata applicata un global shifting quando l'ho portata dentro perché sono numeri abbastanza grandi, parecchio grandi per la gestione di Cloud Compare. Tu scegli qui le coordinate, puoi scrivere qui dentro il numero, diciamo la laterna di coordinate in corrispondenza del centro del piano oppure puoi attivare il point picking e cliccando su un punto, un punto della nuvola oppure anche un punto fuori, vediamo se ce lo fa anche su un punto fuori, sul punto fuori no quindi non trova niente quindi dobbiamo cliccare su un punto della nuvola affinché questo strumento, o meglio questo comando abbia senso, clicco su un punto della nuvola e lui automaticamente prende le coordinate del punto che ho cliccato e queste saranno le coordinate del centro del piano. Che coordinate sono queste? Sono le coordinate locali, il software comunque si tiene in pancia anche le coordinate globali e eventualmente all'output mi ridarà tutto quanto in coordinate globali però per fare i suoi calcoli lui ha bisogno di tenere dei numeri abbastanza bassi. Dimensioni del piano, quanto vuoi che sia largo e quanto vuoi che sia alto il piano, sai è un rettangolo quindi tu scegli due dimensioni, base per altezza, lasciamo un attimo invariato 10-10, queste dimensioni che cosa significano o meglio che cosa sono legate? Sono legate all'unità metrica con cui stai lavorando all'interno di Cloud Compare e sono relazionate alla nuvola di punti, in questo caso ho una nuvola di punti che è scalata in metri perché ho portato dentro dei punti di riferimento presi col GPS, sono coordinate metriche, questi sono metri. Lasciamo 10-10, adesso devi, quindi noi sappiamo dov'è questo piano, quanto sarà largo e quanto sarà alto il rettangolo, dobbiamo decidere come sarà orientato. L'orientamento lo puoi dare attraverso due parametri o meglio attraverso coppie eterne di parametri secondo queste due finestre, questi due tab che hai opzionabili. Utilizzando la Deep e la Deep Direction, utilizzando le normali. Utilizzando le normali, tutti i punti sul piano hanno la stessa informazione in termini di normali, una volta che hai orientato il piano tutti i punti hanno le solite normali, quindi tu puoi scegliere qual è il versore normale, se lo conosci, se hai un'informazione in questo senso e dare al software l'informazione dicendovi guarda tutti i punti di questo piano devono avere un versore normale che ha queste tre componenti, NX, NY, NZ. Altrimenti puoi scegliere di utilizzare due grandezze, due parametri, non sono parametri, due misure che si utilizzano molto nella meccanica delle rocce che sono la Deep e la Deep Direction. Ora per farti vedere che cosa sono, ho cercato online un'immagine che provasse un po' a spiegare che cosa sono la Deep e la Deep Direction. Allora il piano di riferimento è questo piano grigio e devi, o meglio scusa, il piano orizzontale, ho sbagliato, è questo piano grigio, credo. Vabbè comunque magari potevo affrontarlo un po' meglio questo argomento. Allora diciamo così, la Deep è l'angolo che il tuo piano di riferimento, che è questo qua, facciamo che sia questo il piano di riferimento, forma con un piano orizzontale, ok? Questo è il piano orizzontale e questo è il tuo piano di riferimento. L'angolo che i due piani formano, che il piano di riferimento forma con l'orizzontale è l'angolo di Deep. Va da 0,90 gradi. La Deep Direction è una grandezza che deriva dallo strike, è la perpendicolare allo strike, è chiamata immersione e ti dà la direzione, ti dice com'è orientato, chiamiamolo così. Adesso dico delle cose un po' brutali, se ti occupi di meccanica delle rocce, di geomeccanica, probabilmente tappati un attimo le orecchie, però il concetto è l'orientamento del piano è determinato dalla Deep Direction. L'angolo di Deep Direction va da 0 a 360 gradi. Questi sono i due parametri, Deep e Deep Direction. Quindi qua tu potresti scrivere che vuoi aver, se io lasciassi così 0,0, vediamo che cosa succede. Quindi l'unica cosa che ho modificato è il centro del piano. Ecco qua, lui cosa fa? Crea un piano che è un quadrato, se io mi metto in vista dall'alto, questo piano è perfettamente un quadrato perché gli ho dato base per altezza uguale 10 e il centro è il centro che ho cliccato. Come ho orientato questo piano? È un piano orizzontale perché gli ho dato Deep 0, quindi coincide col piano orizzontale e la direzione è 0, quindi in questo caso l'immersione è orientata, diciamo il nord è da questa parte. Quindi questo piano io potrei anche modificarlo, potrei creare un altro piano e vediamo se cambiamo la Deep Direction che cosa succede. Intanto vedi che qua il software ha messo, ha iniziato a mettere dentro delle cose, questo è il plane che mi ha creato, lo posso rinominare e lo chiamo primo piano test. Ok, ci sono i vertici, i quattro vertici del piano e poi c'è anche un vettore che sono le normali del piano. Rifacciamo un attimo il Create Plane, vedi che adesso che ci sono dei piani, o meglio ho selezionato la nuova dei punti forse, ho selezionato un elemento, quindi se non seleziono niente lui mi dà soltanto l'opzione Create Plane. Voglio farti vedere che cosa succede se io metto qua dentro ad esempio 45, quindi un angolo di Deep rispetto all'orizzontale di 45 gradi e una Deep Direction di, anche questa facciamola, di 45 gradi. Lascio tutto invariato, quindi il piano viene fatto con il centro esattamente nel solito punto rispetto a prima e quello che succede è che lui ha fatto un piano che è, lo vedi meglio di qua, ha una Deep, quindi un angolo di Deep di 45 gradi rispetto all'orizzontale, se lo metto dall'alto l'orientamento è ruotato, l'immersione è ruotata di 45 gradi, quindi ha un più 45 rispetto alla direzione del nord. Il centro è sempre il solito, la dimensione è sempre la solita. Se io facessi invece utilizzassi Plane Create potrei assolutamente fare un po' quello che mi va in termini di dimensioni, quindi possiamo fare ad esempio un piano di 50, una base di 50, un'altezza di 10. Posso mettere o togliere la spunta su Upward e questo è importante perché ti dà l'informazione se dice al software se le normali uscenti dal piano sono Upward, in questo caso sono positivi in Z crescente oppure togliendo la spunta sono Downward e vedrai che se genero questo piano, magari il cambio anche un pochino, la abbasso un attimo la Deep, lo porto a 10 e la Deep Direction la portiamo a, anche questa portiamo la 10, vediamo che cosa viene fuori. Ok, quindi lui mi ha generato un piano che è un rettangolone e vedi che fondamentalmente ha tenuto la posizione in termini di centro, ha cambiato l'orientamento, ha cambiato l'immersione, ha cambiato l'inclinazione rispetto al piano orizzontale. Questo è un modo per creare un piano, diciamo con il controllo degli strumenti che hai e dell'informazione che hai, se tu conosci la Deep e la Deep Direction, esempio di una giacitura in una parete rocciosa e ci vuoi costruire un piano sopra, puoi cliccare in corrispondenza di quello che sarà appunto il centro del piano e puoi generare un piano corrispondente a quella giacitura per avere una sorta di ricostruzione tridimensionale, più o meno approssimativa, ma mi fermo qua perché non è il mio campo, di quella che potrebbe essere la giacitura all'interno anche dell'ammasso roccioso. Vediamo che cosa succede invece. Torniamo qua Edit e seleziono la nuvola dei punti e proviamo a vedere che cosa succede quando io gli chiedo di fare un Fit Plane. Devo selezionare una nuvola di punti, Plane, Fit Plane. Allora in base alla nuvola di punti selezionata il software farà del suo meglio per cercare di fittare, fitting proprio, di ricostruire con la migliore approssimazione possibile un piano sulla base dell'elemento tridimensionale di nuvola di punti che lui ha trattato, che lui ha considerato perché è quello che gli ho dato io in termini di riferimento. Aggiunge, vedi che questo è il piano che lui ha cercato di fittare, questa cava è abbastanza complessa da poter essere fittata con un piano, però immaginati un versante molto esteso. Allora un Fit Plane ti può dare un'indicazione interessante su un versante non molto movimentato, ma ti può dare un'indicazione interessante sulla pendenza media del versante e potresti segmentare la nuvola di punti per fare un fitting, diciamo, localizzato e quindi darti un'indicazione di massima generale su il dato tridimensionale che stai analizzando. Quando fai Fit Plane, il Fit Plane è legato a un oggetto, all'oggetto che hai selezionato nell'albero dei layer e quindi lui ti mette l'elemento piano che vedi ha questa sorta di nuova icona, te la mette all'interno, te la mette come figlio dell'elemento che è stato fittato e ti dice, però, ti dà già delle informazioni interessanti che sono guarda io ho fittato questo piano che ha una Deep di 46 gradi e una Deep Direction di 166 gradi, ti dà le informazioni. È chiaro che poi tu puoi parzializzare la nuvola di punti se vuoi e fare un Fit localizzato, per esempio, ammettiamo che io voglia fittare un piano in corrispondenza di questa parete di cava, questa parete che mi verrebbe da dire verticale ma in realtà non è verticale perché in questa zona un po' la verticalità si perde. Allora che cosa potrei fare? Intanto questo piano, questo elemento, lo spengo, prendo la mia nuvola di punti e la ritaglio, quindi faccio una parzializzazione della nuvola di punti. Magari prima ci faccio una copia in modo tale che l'originale è sempre salva. Ritaglio questa nuvola di punti in corrispondenza del limite che per me è ok in termini di fitting, creazione di questo nuovo piano che fitta un po' tutto quanto. Allora utilizzo lo strumento di segmentazione e quindi mi ritaglio la nuvola di punti in modo tale da tenere dentro soltanto quello che mi serve da far fittare al software, quindi faccio un segment in, Cloud Compare mi divide la nuvola di punti, ho la parte che è rimasta, la parte che mi interessa. A questo punto se io faccio seleziono la nuvola di punti, edit, plane, fit, ma lo puoi fare anche tramite tool, fit, plane, è la solita cosa, lui crea un piano che ha delle caratteristiche ben diverse rispetto al piano precedente che ha affittato precedentemente perché ha una nuvola di punti di riferimento molto diverso. Non è un piano verticale, è un piano che ha in questo caso una Deep di 0,78, di 78 gradi e una Deep Direction di 127 gradi. Se fosse stato verticale sarebbe stata una Deep di 90 gradi. La stessa cosa la potremmo fare ad esempio su un piano orizzontale e poi ti faccio vedere anche un'altra opzione che è interessante per quanto riguarda lo strumento piano legata alla creazione di nuovi elementi, nuovi punti all'interno di Cloud Compare. Quindi potrei utilizzare, utilizziamo questa nuvola di punti anche se è parzializzata, tanto a me interessa ad esempio isolare questa parte di nuvola e fittare un piano che approssimi nel miglior modo possibile questa parte di nuvola. Quindi seleziono la nuvola, rilancio lo strumento di segmentazione e faccio una delimitazione di quella che è l'area che vorrei venisse affittata dalla software. Tengo fuori un attimo questo... mi sono messo in una posizione veramente brutta perché in questo modo taglio la nuvola di punti per cui taglio anche questa sorta di piccolo monolite che c'è in questo piazzale per cui mi metto... rimetto in pausa lo strumento di segmentazione e lo rilancio mettendomi in modo tale da poter vedere bene tutto quello che ritaglio senza dover intersecare niente che mi possa dare fastidio anche se probabilmente avrei dovuto fare un paio di step nel processo di segmentazione. Segmenting, ok adesso ho questo piano, c'è ancora questo elemento qui, vai teniamolo, vediamo che cosa succede, vediamo come si comporta il software quando gli chiedo di fittare un piano su questa nuvola di punti quindi spengo la nuvola di punti che non mi interessa, lascio soltanto accesa la nuvola di punti di cui voglio avere il fitting in termini di piano, la seleziono, edit, plane, fit e lui è affittato il piano. Questo elemento evidentemente l'ha considerato come giusto che sia poco significativo in termini di... anche se si alza un po' dal piano della bancata è poco significativo in termini di... sul totale dei punti di questa nuvola di punti ha generato questo piano dove la deep è 0, vedi questo è un piano che per lui è un piano perfettamente orizzontale anche se i punti della nuvola stanno un po' sopra, un po' sotto rispetto a questo piano la deep direction è 3,59 quindi quasi 3,60. in questo caso, nel caso di fitting, non c'è da preoccuparsi sulle dimensioni del piano perché lui automaticamente individuando i contorni, i limiti della nuvola di punti genera un piano dove le dimensioni sono tali da poter abbracciare da includere tutti i punti che contengono una nuvola. Una volta che hai creato un piano però c'è l'opzione dentro cloud compare di generare una nuvola di punti a partire da questo piano allora facciamo così siccome questo piano è un figlio di questa nuvola perché è stata affittata da questa nuvola ma non è legata, quindi non è vincolata, non è una cosa bloccata puoi prendere questo piano se spegni la nuvola però chiaramente si spegne anche il piano perché è figlio e quindi si spegne tutto quello che c'è sotto potrei prendere questo piano e portarlo fuori e vediamo, lo portiamo in cima ok, spegniamo un po' di roba per arrivare in cima altrimenti in cima non ci arrivo ok, questo piano io lo porto nella cartella principale e quindi tutti questi elementi sono spenti, spengo anche la nuvola di punti tutto quanto mi rimane soltanto questo piano c'è uno strumento che è questo che è Point Sampling on Mesh per lui questo è una mesh quindi per Cloud Compare il piano è una mesh perché è una superficie è una superficie solida, non è una nuvola di punti e c'è questo strumento che si applica anche chiaramente alle mesh che ti permette, che permette al software di creare dei punti sulla mesh, sulla superficie in questo caso la superficie è un piano e in questo modo io riesco a creare, a generare dei punti che non sono mai esistiti nella nuvola di punti originale che stanno tutti quanti su questa superficie quindi seleziona questo strumento hai due opzioni puoi scegliere in base alla superficie, in base a quello che è il tuo strumento, la superficie di riferimento per creare questi nuovi punti, quanti punti vorrai in questo caso sono selezionati, c'è un numero di un milione di punti oppure puoi scegliere la densità dei punti e ti dice punti per unità quadrata in questo caso io qua sceglierei punti per metro quadrato state a scegliere uno o l'altro adesso ti faccio vedere ad esempio quello con la densità quindi se io volessi avere mille punti per metro quadrato utilizzerei una densità di mille hai l'opzione di mettere la spunta sulla generazione delle normali nella nuvola di punti, stiamo creando dei punti, puoi mettere le normali oppure puoi scegliere di avere una colorazione dei punti o from RGB, in questo caso ho una mesh che è verde mi aspetto di avere dei punti verdi se tu avessi una mesh colorata perché il software ti ha fatto la colorazione prendendo l'informazione dai vertici dei triangoli avresti dei punti colorati oppure da materiale texture se è presente in questo caso non c'è non fai nessun danno a lasciarla selezionata una volta che hai scelto le tue opzioni dai ok e lui cosa fa? lui ti ha creato dei punti che stanno tutti quanti su questo piano ok vediamo che cos'è ok sì io ti ho detto che sarebbero venuti punti verdi non è assolutamente così i punti non sono per niente verdi e lui ti ha creato una nuvola di punti che te l'ha chiamata nel solito modo del piano di riferimento quindi deep 00 degree e deep direction 359 degree sampled perché sono punti campionati ma a questo punto questi punti sono nello spazio tridimensionale a tutti gli effetti una nuvola di punti tant'è che se io riaccendo la nuvola di punti originale o meglio anche la nuvola di punti su cui abbiamo fatto l'elaborazione che comunque derivano dal dato originale vedi che questi punti c'è anche la nuvola parla parte verticale questi punti si inseriscono perfettamente nello spazio tridimensionale laddove abbiamo chiesto al software di creare il piano ok ad esempio se io questa nuvola la volessi vedere un po' meglio la potrei tranquillamente colorare gli do una colorazione di rosso e questi sono i punti che fanno parte di questa nuova nuvola creata a partire dal piano che cosa ci potrei fare con questi punti? beh intanto ho dei punti in più per esempio è vero che qua avendo fittato questa nuvola di punti qui ci sono punti che probabilmente sono doppioni perché c'erano già punti in questa zona però per esempio qui ci sono dei punti che non ci sarebbero non c'erano prima nella nuvola originale questi punti qua in questa sorta di angolo il piano ha sbordato è andata ad accordarsi qua a prendere il vertice e qui invece avendo fittato avendo creato avendo fatto un sottocampionamento un campionamento non un sottocampionamento infatti è sample no subsample avendo campionato dei punti ho dei punti anche in questa zona e poi ci potrei fare potrei utilizzarlo come riferimento ad esempio per un calcolo volumetrico potrei creare un piano che sia la base sulla base di informazioni che ho che sia la base per un calcolo volumetrico dove magari ci sono delle aree che hanno dei cumuli e non sono in grado di sapere qual è il riferimento di base per poter fare l'analisi dei volumi è molto interessante lo strumento del piano se io prendo il piano poi e lo salvo prendo lo strumento piano e gli dico di salvarlo adesso mandiamo in desktop ad esempio ma non è importante il non è tanto importante il dove quanto le strumenti sono le opzioni di esportazione sono quelle legate la mesh, PLY, OBJ, STL, FBX, DXF, Shapefile Maya, Ashi Mesh quindi l'elemento piano è un elemento superficie l'elemento superficie è come una mesh questo elemento lo puoi portare un po' dove vuoi in più dentro Cloud Compare hai anche l'opzione di crearci qualcosa sopra che sono proprio punti che diventano degli elementi aggiuntivi se io queste nuvole di punti le prendo e le unisco col comando di merging gli diciamo di sì di generare lo scalar field per la provenienza e gli chiedo di vedere il colore RGB di questa nuvola di punti ok non so come mai sta andando così a rilento forse perché ci sono delle normali non so che cosa è successo però ora in questo momento si è qualcosa legato alle normali e quindi mi dispiace per la visualizzazione un po' sinceramente non ho capito comunque questa nuvola di punti che è stata generata dal piano è parte integrante di questa nuvola nuova nuvola quindi una nuvola unita dove dentro c'è anche questo oggetto questo elemento questa cosa extra quindi c'è anche questa opzione Cloud Compare ti mette a disposizione mi sono un po' incartato alla fine scusa l'opzione di creare un piano secondo varie modalità o utilizzando parametri che conosci normali Deep Direction mettendolo dove vuoi delle dimensioni che vuoi tu oppure fittando la nuvola di punti per cercare di approssimare nel migliore modo possibile con un piano la nuvola di punti in quella zona o quella nuvola di punti in uno spazio tridimensionale forse meglio spero che sia stato utile questo video in alcuni casi a me trova questo è uno strumento che utilizzo per fare calcoli volumetrici dove non ho le informazioni del pregresso ma riesco a ricostruirlo sulla base di quello che c'è intorno è il tipico caso di stockpiles cioè cumuli in aree di stoccaggio che sono tendenzialmente pianeggianti o con poche pendenze dove il fitting dove fittare un piano non mi crea non mi causa dei grossi errori spero sia utile anche a te c'è questo strumento e quindi l'opzione piano è un'opzione interessante dentro Cloud Compare se ti va di collegarti con 3Dmetrica lo puoi fare 3Dmetrica.it altrimenti puoi iscriverti al canale Telegram di 3Dmetrica telegram.me slash 3Dmetrica se poi pensi che questi contenuti siano utili o siano utili da qualcun altro che magari non li conosci li puoi condividere puoi condividere il video puoi condividere i riferimenti di 3Dmetrica oppure se sono utili a te e pensi che possa valer la pena puoi diventare un finanziatore di 3Dmetrica supportando il progetto aderendo a una campagna di crowdfunding 3Dmetrica.it slash supporta e li trovi un po' di informazioni in più è una scelta libera io ti ringrazio per aver visto questo video e ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini